All right, and now we have here with us Mr. Carlo Bai, an Italian hairdressing icon that is well known all around the world. Welcome Carlo, benvenuto Carlo. Grazie, sono felice di essere a Madrid con te. E un premio internazionale come questo senza dubbio mancava ed è stato realizzato, credo, del migliore dei modi. Un premio internazionale come questo era qualcosa che era missing in l'industria e Carlo ha detto che queste premio hanno stato fatto in modo giusto. Stare insieme, condividere ognuno il suo pensiero, ognuno il suo gusto, serve a far crescere tutta la categoria. Quindi benvengano i confronti a alti livelli come questi. Stare insieme, ottenere tutte queste persone da tutto il mondo allo stesso posto è qualcosa che aiuta alla comunità globale a crescere. E, allo stesso tempo, mettere i nostri aspetti al futuro. Grazie a tutti.